Cioè no, questo video era da fare ragazzi, questo video era da fare Come fai a farti rubare un giocatore che è praticamente tuo, come scrivono i giornali, come dicono la televisione Come fai a far sedere al tuo tavolo dove stai facendo una trattativa tu, i dirigenti dell'Inter Cioè Gagnani, ma che sta succedendo? Che sta succedendo a questo Mina ragazzi? Cioè una settimana fa ci dite che Martinez è ufficiale, cioè Martinez mancano solo le visite mediche Addirittura un aereo in partenza da Milano per fargli fare le visite mediche E poi Giacomo Martinez dichiara, no mi piacerebbe l'Atletico Madrid, anche l'Arsenal lusingato così Una settimana che ci dite con Dogby è quasi del Mina, ne fatteremo una cosa, c'è stato l'offerta 30 milioni più bonus, un giocatore 3 milioni e mezzo all'anno E poi va l'Inter, non meno di un'ora fa, per 37 milioni quanti sono ufficiale Cioè ragazzi ma ci rendiamo conto, ci rendiamo conto di che schifo ci siamo diventati Cioè ci facciamo soffiare i giocatori, ma non è che diciamo c'era anche l'Inter, c'era l'Inter prima del Mina Sai così colà, quindi l'Inter se l'è meritato, così No, noi avevamo praticamente chiuso, se l'è fatto fottere all'ultimo secondo Cioè ieri sera l'Inter si è inserita, ieri sera l'Inter ha fatto tutto e meno di in una notte ha fatto tutto ragazzi Ieri ha fatto l'offerta e oggi il giocatore ha accettato E invece noi dobbiamo fare le telenovela tipo Beautiful ragazzi Cioè puntate su puntate, ogni giorno succede una cosa nuova Ogni giorno viene o non viene, viene o non viene Cioè Gagliano è diventato tipo Brook di Beautiful ragazzi Si gira tutte le dirigenze e non conclude niente Cioè si gira tutti i ristoranti, mangia a spese del Milan, si ubriaca così Adesso si è fatto anche l'amico di mangiate, quello là Nelio Lucas Che quello secondo me non ha una lira neanche lui Cioè ragazzi ma che cosa stiamo diventando? Farci fotte di giocatori, non dico da Real Madrid Beh finché era il Real Madrid dove c'è si poteva capire Quando un giocatore sente se il Real Madrid ti vuole, veloce ci va Ma non dall'Inter ragazzi Cioè Gagliani si è fatto, Gagliani si è fatto bruciare dei dirigenti dell'Inter Da Toil, il cinese Cioè Toil ha uscito 40 milioni e Berlusconi non ne ha Ci rendiamo conto? Ma chi, ma che soci ha Berlusconi? Cioè chi è questo Mr. B qua? Illusioni, illusioni ragazzi Cioè viviamo di illusioni e nomi Poi c'era anche Hummels Wow Hummels, vedremo se spenderanno 40 milioni per Hummels Io da domani ragazzi non credo più a niente di quello che scriveranno Tanto so che alla fine arriveranno i classici Basselli, Jose Mauri, Bertolacci, De Maio del Genoa Tutti i giocatori riciclati Perché tanto ora torna a Matri Montari ha detto voglio rimanere al Milan Ci teniamo questi giocatori Perché il nostro Condog in fondo ragazzi è Montari Cioè siamo ultra competitivi Poi non dimentichiamoci del Faraone Ora se ne uscirà quella trenore del Faraone Quindi facciamo schifo ragazzi Questa dirigenza fa schifo Voglio vedere le scuse che dirà Gagliani A breve, domani Vedremo cosa dirà Mi ha chiamato il Sharawi Ha detto che il Sharawi farà il macello quest'anno Poi torna anche Matri Rinnoviamo Boniere e De Jong Siamo ultra competitivi Questa sarà la battuta che butterà secondo me Ragazzi, delusioni su delusioni So che anche voi siete delusi Quindi scrivetelo in commento Cosa pensate di questa società Cosa pensate di Gagliani Cosa pensate di Condog in all'Inter Lasciate un like al video Se volete diffondere il messaggio condividete Iscrivetevi al canale per molti altri video sul Milan Amareggiato, deluso Ma sempre innamorato del Milan Ma non di questa società che ci prende per il culo ragazzi Ogni giorno sempre di più Ciao ragazzi